Ciao a tutti, ciao e benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro caro Mastro King, come vedete quest'oggi siamo con Minecraft Game Lapse, allora quest'oggi ho deciso di aggiungere la parte audio, quindi la mia voce, oltre a cancellare sostanti, ho un'altra parte che ho detto che all'interno del gioco in game a volte capita che semplicemente non capiscono ciò che dico, quindi diciamo che sarebbe comodo che magari spieghi. Per un'altra parte, per una caverna, e uno, quello proprio del modulo principale, quello per raccogliere minerali, popoli, sono un po' di generale, lo soltanto di abbellire, da, che è la vera e propria, anche per vari musici, per fare costruzione, tutto quello che volete, però, anche carino, mantenere un minimo di estetica, per la vera e propria, per fare costruzione, perché la sostanza interna è fondamentale, perché, comunque, la propria cosa è che è di fare costruzioni, visto che a me, ho molto buono di scegliere steampunk, e quello medievale, che il target è molto bene direi in cima al legno quindi diciamo le forze goblet sono proprio guarda guarda semplicemente l'utilizzo di la diuride e il pavimento della come stai vedendo della miniera perchè comunque per non lasciare tutte le 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 scale però il pavimento anche quello va sistemato in qualche modo quindi ora si tratterà questo continuerà a riempire con diuride questo se non ricordo ma è granite sbagliato questo è per quanto riguarda la diciamo il granito questo riguarda la diuride come vedete quella bianca tale non fa il pavimento pensi per le pareti quindi è bello da vedere avere un contrasto di colori di colori all'interno della della miniera comunque per non lasciare tutto lo stesso comunque monocromatico è carino mentre per quanto riguarda il tetto non so di che colore parlo quindi spesso per magari sapere che sono e piatemi qualcosa per per colorare al meglio di Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti.